Musica Auto in fiamme questa sera, domenica 14 gennaio, poco dopo le 19.30, a San Maurizio Canavese, sulla strada provinciale 16 che da Malanghero conduce a Leni, ad incendiarsi una saion con a bordo una coppia. Appena visto il fumo uscire, i due sono subito scesi dall'auto e hanno lanciato l'allarma a 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese che hanno prontamente spento le fiamme. I carabinieri hanno proceduto con i rilievi del caso. Grazie a tutti.